Bene carissimi amici, bentornati al ciclo di catechesi dedicato a Maria di Magdala. Siamo giunti alla puntata numero 26. Io purtroppo ogni tanto agli inizi delle catechesi mi accorgo che sbaglio i numeri delle puntate, nel senso che do un po' di numeri perché siccome ci sono molte cose in atto, ogni tanto scambio i titoli delle puntate per un ciclo e l'altro di catechesi. Quindi vorriate perdonarmi, specialmente per chi vede il video YouTube, fa sempre fede chi lo vedrà, ovviamente è differita, non in diretta come adesso, fa sempre fede il sottotitolo che mando dove c'è il numero reale della puntata, così come anche la miniatura che accompagna il video. Bene, abbiamo concluso la volta scorsa con quello splendido episodio in cui Maria di Magdala si offre al Signore chiedendo a lui la grazia di concedergli, di amarlo come nessuno l'ha amato mai. Una grande grazia degna di questa grande donna che stiamo imparando a conoscere. Oggi, la puntata di oggi, si chiama Sperimenta l'amore per la povertà, il titolo di questo nuovo capitolo. Lo introduco leggendo appunto proprio l'introduzione, il sottotitolo, che si trova nel testo. Intanto vorrei ricordare che questa catechesi, come tutte quelle tematiche, va in onda e contemporanea sul canale YouTube, su Instagram e su TikTok. Su TikTok sono momentaneamente disabilitati i commenti, perché è un ambiente un pochino turbolento. Altrove no, su Instagram non sono capace, purtroppo, di disattivarli durante la diretta. Mentre nei lasciati di YouTube i commenti sono riservati agli abbonati. Raccomando però sia agli abbonati di YouTube che agli amici di Instagram di non fare domande durante la catechesi. Al termine della catechesi, come al solito, darò la possibilità di fare qualche domanda sul contenuto di quello che ci andremo dicendo. Aprendo anche il canale pubblico mio di Telegram, per chi non lo sapesse amici di Leonardo Maria Pompei, dove ci può intervenire in diretta, proprio quindi formulando a voce, non per iscritto, una domanda. Chiunque volesse iscriversi al mio canale di Telegram, basta che prenda l'applicazione Telegram, cerca amici di Leonardo Maria Pompei, che è il mio canale pubblico, basta semplicemente unirsi al canale e basta. Su YouTube non se non occorre nulla, così come su Telegram, così come su Instagram, così come su TikTok, basta semplicemente, come dire, diventare, tra virgolette, followers, e iscriversi al canale. Ecco, raccomando sempre, se credete, interagire con i like, oppure di iscrivervi al canale, perché sono attività, sono operazioni che non costano nulla, ma che sono importanti per la, diciamo così, risonanza pubblica del mio operato apostolico, ovviamente non c'è niente di personale, ma è sempre per il bene delle anime. Sul canale YouTube è anche possibile diventare, come dire, un sostenitore, quindi attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, che non dà nulla, diciamo così, di differente da quello che hanno gli utenti pubblici, salvo due cose, la possibilità di vedere i video che vengono programmati per essere caricati in un certo giorno in anteprima, e la possibilità di poter vedere le dirette, quindi di poter rivedere le dirette dopo che le dirette sono terminate. Chiaramente le dirette hanno anche l'appendice delle domande, ma il contenuto del video, quindi la categoria di odierno, viene poi ricaricata e quindi è accessibile a tutti, anche a chi non è abbonato. Quindi questa cosa è semplicemente una possibilità per chi lo desidera di sostenere il mio postolato e ha questi piccoli vantaggi, insomma, proprio tanto per esprimere con un segno di gratitudine a chi fa questa cosa. Bene, detto questo, cominciamo a a leggere, qui innanzitutto il sottotitolo, e cioè le discepole lo raggiungono in Samaria quando il maestro, nonostante il decreto del Sinedio, sta tornando verso la Giudea per poter essere a Gerusalemme nella prossima Pasqua. Sulla strada tra Enon e Terza si è unito al gruppo Beniamino, un pastorello che Gesù è sottratto ad un padrone violento e che la gente del posto ha riempito di doni. Gesù si è fermato in un uliveto bellissimo, si fermano tutti, Gesù benedice e spezza il cibo e lo spartisce. Beniamino guarda e ordina ciò che gli hanno dato, vesti troppo lunghe o troppo larghe, sandali non adatti al suo piede, mandorle ancora nel mallo, le ultime noci, una formagella, qualche mela rugosa, un coltelluccio. È felice dei suoi tesori, vuole offrire le cibarie e piega le vesti dicendo metterò la più bella per la Pasqua. Maria d'Alfeo promette a Betania te la riordinerò tutta, lascia intanto fuori questa, a Terza ci sarà acqua per rinfrescarla e più là ci sarà filo per aggiustarla. Per i sandali poi non so come fare. si danno questi al primo povero che si incontra e che abbia si capace piede e se ne compra a Terza un paio di nuovi, dice Maria di Magdala tranquillamente. e con che denari sorella? Le chiede Marta. Ah, è vero, non abbiamo più un picciolo. Ma Giuda ha denaro, così Beniamino non può far lunga strada. e poi, povero panciullo, la sua anima ha avuto la grande gioia, ma anche la sua umanità deve avere un sorriso. Fanno piacere certe cose. Susanna, giovane e allegra, ride dicendo, parli come se tu conoscessi per esperienza che un paio di sandali nuovi fanno la gioia di che non ne ha mai posseduti di tali. È vero, ma è perché infatti so come può far piacere una vestia asciutta quando si è bagnati ed una fresca quando non se ne ha che una. Io ricordo che curva la sua testa sulla spalla di Maria Santissima dicendo ti ricordi, madre, e la bacia con tenerezza. Gesù dà l'ordine di andare per essere a terza prima di sera. Di nuovo un sottotitoletto descrittivo, ma non possono entrare nella città di terza per l'ostilità dei cittadini. Dopo aver sostato nella campagna proseguono verso Doco, poco prima dell'incontro di Gesù con il giovane Dicco. Maria di Magdala fa un'altra esperienza di povertà. Giuda d'Alfeo si ferma per attendere le donne e sopraggiunte che siano e se erano con il ragazzo indietro una trentina di passi dice a Elisa avete dato molto a Sichem dopo che partimmo perché? Perché Giuda non ha più un picciolo i tuoi sandali e beniamino non verranno è destino così a terza non si potrà entrare e anche avessimo potuto il non aver denaro avrebbe impedito ogni acquisto dovrà entrare a Gerusalemme è così ma prima c'è Betania dice Marta con un sorriso e prima c'è Gerico e la mia casa dice Nike pure sorridendo e prima di tutto ci sono io io ho promesso e io farò viaggio di esperienze questo ho provato cosa è non avere una una di dramma e ora proverò cosa è dover vendere un oggetto per bisogno dice Maria Di Magdala scusate ma faccio proprio un pit stop volante per chi non conosce bene gli iscritti di di Maria Valtorta questa Nike che dice prima prima c'è Gerico alla mia casa è la famosa Veronica è la donna che durante la via Crucis ha avuto il coraggio di sfidare la folla e di astergere il volto di Gesù con il famoso telo sapete che adesso si è custodito a manoppello è lei è questa questa donna la bellezza del del testo di Maria Valtorta è che si tratta evidentemente di particolari che non influiscono minimamente sulla rivelazione pubblica sul Vangelo eccetera però certamente per le anime manti per chi ama il Signore fa certamente piacere dare un volto un nome una caratterizzazione a quei personaggi che nel Vangelo magari sono soltanto accennati oppure come per esempio la Veronica della Veronica nel Vangelo non si parla lo sappiamo dalla tradizione tradizione che è stata poi cristallizzata nella sesta stazione della via Crucis esercizio di francescana memoria ecco credo che tutti sanno che la via Crucis la recitiamo oggi grazie a San Francesco San Francesco è un grande merito della Chiesa oltre che per la sua straordinaria testimonianza di santità perché ci ha lasciato grazie a San Francesco abbiamo due cose preziose il presepio perché il primo l'ha fatto lui a Greccio e la via Crucis perché la via Crucis è esercizio evidentemente francescano la contemplazione delle piaghe e dei dolori di Gesù che è esercizio particolarmente caro alle anime serafiche dell'ordine di San Francesco bene ecco abbiamo poi visto un piccolo inciso Maria di Magdala sapete che Maria di Magdala era la sorella di Lazzaro quindi Maria di Magdala era abituata ad una vita che dire agiata è dire meno che un eufemismo c'era un pozzo di soldi avevano proprio tanti 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 tanto è vero che secondo gli iscritti di Maria Valtorta Lazzaro dopo l'ascensione lui era praticamente proprietario di mezzo Monte degli Olivi aveva campi e tenute e proprio sul Monte degli Olivi non molto lontano dal Gezzemani lui aveva una sua proprietà con una casa molto riparata quindi molto riservata e lì la Madonna abitò con San Giovanni in una casa di Lazzaro sul Monte degli Olivi quindi è una tradizione differente da quella attestata da Anna Caterina e Meric infatti ci sono un sacco di dispute sulla presenza o meno di Maria Santissima da Efeso sulla presunta casa di Maria questi sono problemi che in parte stanno agli storici e si contendono anche perché a Gerusalemme vicino al Cenacolo c'è una basilica dedicata al transito di Maria e invece c'è chi vorrebbe e per esempio la Meric è una testimona di questo in questo senso che la Madonna si è stata assunta da Efeso Maria Valtorta da un altro comportamento un'altra versione sono cose su cui si è liberi ovviamente uno riflette pensa e comunque poi in cielo sapremo come le cose sono andate realmente no? Secondo Maria Valtorta Maria Santissima è stata assunta in cielo senza la presenza degli apostoli non sotto gli occhi di nessuno anzi la scena dell'assunzione non l'ha vista nessuno perché San Giovanni che era stato vegliando sul sonno estatico della Vergine nel momento dell'assunzione quindi nel momento in cui gli angeli sono scesi a prendere il corpo di Maria è crollato e si è addormentato certamente un sonno non causale perché un po' l'assunzione è un po' come la risurrezione proprio il fatto della risurrezione non è stato visto quando San Giovanni ha aperto gli occhi la Madonna era già stata portata dagli angeli in cielo vabbè quindi questo per dire Maria di Magdala qui si trova a contatto con dei casi estremi non so non semplicemente di povertà ma addirittura di indigenza quindi di miseria per lei è un'esperienza nuova ho capito ho provato cos'è non avere una di dramma stare senza una lita in tasca e proverò cos'è dover vendere un oggetto per bisogno e dirà e chi vuoi vendere Maria se non porti più gioielli chiede Marta alla sorella quindi particolare che ci fa capire una cosa dopo la conversione cambia lo stile lo stile anche esteriore di Maria di Magdala ci sono stili e stili ci sono gli stili mondani ci sono gli stili cristiani gli stili cristiani non sono gli stili mondani gioielli non hanno diciamo così non sono i benvenuti nella letteratura spirituale ha cominciato San Pietro a dire che le donne cristiani non devono ornarsi di ornamenti esteri di gioielli ma devono avere altri gioielli che sono le virtù quindi sono tematiche un po' un po' particolari quindi non porti più gioielli sappiamo da Marta allora Maria risponde che cosa puoi vendere risponde le mie grosse forcine d'argento sono tante ma per tenere a posto questo inutile peso i capelli che ce n'aveva una montagna a quanto pare lunghissimi possono bastare quelle di ferro le venderò Gerico è piena di gente che compra queste cose e oggi è giorno di mercato e così domani è sempre per queste ricorrenze ma sorella dice Marta esclama e che risponde Maria ti scandalizzi pensando che mi si possa credere tanto povera da dover vendere le forcine d'argento o vorrei averti dato sempre di questi scandali peggio era quando senza bisogno vendevo me stessa al vizio altrui e mio ma taci c'è il ragazzo che non sa ancora non sa ancora risponde Maria forse non sa ancora che io ero la peccatrice domani lo saprebbe da chi mi odia perché non sono più tale e certo con particolari quali il mio peccato non ebbe pur essendo tanto grande è meglio dunque che lo sappia da me e veda quanto può il Signore che lo ha accolto fare di una peccatrice una pentita di un morto un risorto di me morta nello spirito di Lazzaro morto nel corpo due viventi perché questo ha fatto a noi il rabbio beniamino ricordalo sempre e amalo con tutto il tuo cuore perché egli è veramente il figlio di Dio ah faccio un'altra piccola sosta perché ci gustiamo insieme e notiamo ecco la crescita continua e anche la manifestazione del carattere della personalità di questa donna no di questa grande donna donna che vedete è una perfetta incarnazione dello spirito del Salmo 50 riconosco la mia colpa il mio peccato mi sta sempre dinanzi contro te contro te solo ho peccato quello che amare ai tuoi occhi io l'ho fatto avremo modo di seguire in questa storia ecco nel proseguo di questo testo non più tanto lungo siamo ormai a oltre tre quarti del nostro cammino quello che Meredi Magdala avrebbe fatto dopo l'ascensione Meredi Magdala è nota nella storia della Chiesa come la penitente e questo ci sarà anche di grande monito per fare attenzione e rifuggire sempre dalle idee malsane circa la la bellissima e la benedetta divina misericordia che rimette la colpa ma esige la riparazione dei nostri peccati esige l'espiazione esige la penitenza perché la misericordia sta da un lato e la giustizia sta dall'altro e Meredi Magdala questa cosa avrebbe fatta alla grande intanto non perde occasione come potete vedere per per umiliarsi è vero anche che al fanciullo preferisce sempre meglio che tante cose le diciamo noi piuttosto che altri le diciamo di noi perché i nostri nemici generalmente le persone invidiose danno giù in maniera abbastanza implacabile e a volte anche eccessiva dice una cosa molto bella pensiamo anche alla singolarità di questa di questa benedetta famiglia il Signore ha operato due risurrezioni a Lazzaro lo ha risuscitato nel corpo e a me mi è risuscitato nell'anima attenzione questa è una cosa molto molto bella e se io se ci chiedessimo quale opera è più grande risuscitare un corpo di quattro giorni o un'anima sepolta nella putredine di anni e anni e anni di peccato queste sono le opere di Dio leggevo poco prima di iniziare questa questa catechesi un testo di San Giovanni Crisostomo se non erro che parlando delle grandi fortune che ebbe San Giuseppe ad avere questo figlio e ad imporgli il nome il nome di Gesù il nome che sia sempre sulla nostra labbra io se posso permettermi se posso permettermi inviterei sempre a rivolgersi al nostro Signore proprio chiamandolo con il nome dolcissimo di Gesù non Cristo carità Cristo vabbè Signore vabbè cioè nel senso nostro Signore Gesù Cristo ovvio ma quando ci rivolgiamo a Lui personalmente quindi nella preghiera nell'invocazione i nomi di Gesù e di Maria più si invocano e meglio è uno dei motivi per cui l'Ave Maria è preghiera potentissima e gradita al cielo perché ogni volta che diciamo un Ave Maria noi pronunciamo per due volte il nome Maria Ave Maria e Santa Maria e ad ogni Ave Maria il nome di Gesù Gesù significa salverà il suo popolo dai suoi peccati e dice a San Giovanni Grisostomo parlando delle cose che gloria che ci ha avuto a San Giuseppe l'angelo ha rivelato il nome da dare a Gesù è stato il primo a saperlo perché Gesù è venuto a fare una cosa che nessun uomo poteva fare toglierci i peccati salvarci dalla schiavitù del peccato non può farlo nessuno questo qui non c'è nessuno cioè tanto per dire una cosa nell'Antico Testamento penso che tutti quanti sappiamo che ci sono dei morti risuscitati sono famosi i casi di Elia e di Eliseo hanno risuscitato dei morti invocando il nome di Dio ma a nessuno hanno detto che sono rimessi i tuoi peccati a nessuno perché non potevano nessun uomo potrebbe fare una cosa di questo genere io quando qualcuno si confessa posso dirgli ti assolvo dei tuoi peccati ma scuriamoci no perché Gesù è morto in croce e la sera di Pasqua ha detto agli apostoli istituendo il sacramento dell'Eucharistia chi rimetterete i peccati saranno rimessi e chi non li rimetterete resteranno rimessi ma quali peccati assolvo io io sono un essere umano considerato in me stesso nessun essere umano può liberare dal peccato perché il peccato offende Dio e per cui l'unico che può liberarti dal potere del peccato è Dio non c'è nessun uomo quindi più grande la risurrezione del corpo di Lazzaro o più grande la risurrezione dell'anima di Maria ripeto le risurrezioni sono state anche in Antico Testamento basta andare a leggere i miracoli in Antico Testamento Eliseo per esempio sarà nato dalla lebra il famoso episodio Naman il Siro ma salvare dal peccato quindi capiamo anche qual è il problema dei problemi l'unico problema guardate voglio amicare che c'è soltanto un problema nella vita terrena solo uno il resto non sono problemi l'unico problema è il peccato da cui dobbiamo stare lontani e alla larga come dalla peste bubonica peste bubonica peste bubonica perché l'origine è la causa di tutti i mali di tutti se stiamo nel peccato quando stiamo in vita noi avremo una vita brutta una vita maledetta orribile perché una vita condotta sotto la cappa sotto la sfera di influenza di colui che è l'autore primo del peccato e che attraverso il peccato ci tiene schiavitù che è Satana è una vita orribile col fiato addosso di Satana si campa male anche qui dopo sarà molto peggio perché dopo ci sono anche i tormenti eterni ma anche qui non è vero che ah vita vita che bello che bello se potessi fare come mi pare se potessi andare a donne come dove quando voglio se potessi farmi tutti quanti i soldi che voglio magari me ne rubo pure un po' faccio qualche frode così mi faccio un bel contone in banca e mi godo la vita ah che bello che sarebbe ma non è affatto vero che sarebbe così bello non lo è non è vero sono tutte bugie sono tutte menzogne sono tutti inganni un povero prete come me ha avuto la sorte la grazia io ho visto ho conosciuto ho visto passare davanti ai miei occhi ho ascoltato le confessioni le aperture di cuore confessioni impegnative confessioni ma di centinaia forse migliaia di persone quando qualunque persona che rientri in sé provo un orrore immenso per quello che è stato ma è perfettamente consapevole certo col senno di poi che ha condotto una vita completamente folle anche se si illudeva che vivendo in un certo modo avrebbe trovato la felicità poi viene sempre l'amore in bocca e benedetto sia il signore per quelle anime che a un certo punto si convertono e quindi trovano la quadra capiscono la reale provenienza dei grandi problemi esistenziali e cominciano a vivere diversamente sperimentando la giocca come Maria di Magdala cioè l'esempio di Maria di Magdala è assolutamente emblematico paradigmatico meglio ancora e quindi ha detto ricordalo sempre e amalo con tutto il tuo cuore perché egli è veramente il figlio di Dio anche qui figlio di Maria di Magdala siamo ancora nel tempo di Pasqua guardate che la fede divina e cattolica consiste nel credere che veramente Gesù è il figlio di Dio che grande scoperta no no io sono sempre stato convinto spero di sbagliarmi ma che molti battezzati purtroppo battezzati e quindi non pagani peccatori non ci credono veramente che Gesù non ci credono perché se ci credessero veramente non sarebbero possibili dei comportamenti appunto incomprensibili e inqualificabili cioè io posso dire chi non va a messa la domenica almeno la domenica sono due le cose o non ci crede e se non ci crede vabbè oppure è matto ma proprio matto perché se tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio e che quindi chi è morto in croce con quella morte orrenda umiliante degradante terrificante dobbiamo pensarci ogni tanto il mare di dolori in cui è stato immerso il nostro Signore e che veramente morte orrenda che ha dovuto e voluto affrontare per la nostra salvezza la Santa Messa è il medesimo sacrificio della croce lo stesso che si compie sull'altare cambia il Signore Magistrato della Chiesa solo il modo di offrirsi Gesù non si offre da solo ma per le mani del Sacerdote che agisce in sua persona non si tratta del sacrificio cruento del Venerdì Santo ma del sacrificio incruento eucaristico ma è sempre il corpo e il sangue di Cristo separati l'uno dall'altro che vengono offerti al Padre come vero sacrificio di propiziazione cioè per mezzo del quale il mondo continua a stare in piedi la Divina Misericordia continua a circolare ad avere pazienza a non sterminare il genere umano in un nuovo diluvio e tu che fai non ci vai credendo queste cose quindi Gesù si inventa una cosa del genere e tu non ci vai o non ci credi o sei fuori terminiamo la lettura di questo paragrafo un intoppo lungo la via ha fermato Gesù e gli apostoli e le donne li raggiungono Gesù dice andate avanti voi verso Gerico ed anche entrateci se lo volete io vado a doco con questi al tramonto sarò con voi o perché ci allontani non siamo stanchi protestano tutte perché vorrei che voi intanto almeno alcune avvisaste i discepoli che io sarò da niche domani ah se è così signore noi andiamo vieni Elisa e tu Giovanni e tu Susanna e Marta prepareremo ogni cosa dice Niche se posso se posso aprire un'altra piccola parentesi sempre per conoscenza sono dettagli che forse potrebbero sembrare di curiosità ma il Signore li ha soddisfatti di sua spontanea volontà dandoci l'opera di Maria Valtorta Susanna di cui si parla anche nel Vangelo di Luca perché Susanna viene esplicitamente menzionata tra le discepole di Gesù qui ne vediamo diverse era la sposa della nozze di Cana Giovanna anche questa menzionata nei Vangeli era Giovanna di Cusa Cusa era un alto funzionario della corte di Erode di Erode Antipa quindi è molto importante conoscere queste cose perché si possa vedere il il panorama delle persone girate intorno a Gesù c'era Claudia Procula Claudia Procula discepola di Gesù insieme ad alcune amiche pagane romane era la moglie di Montio Pilato per questo che uno dei Vangeli se non ricordo male dovrebbe essere proprio Luca comunque uno dei quattro Vangeli sicuro durante la Passione ci informano che la moglie di Ponzio Pilato mi ricordo se proprio la chiamava proprio Claudia forse sì o forse no però la moglie di Ponzio Pilato va a dirgli guarda non avere a che fare con quel giusto perché in sogno fui molto turbata per causa sua l'opera di Maria Valtorta ci informa che la moglie di Ponzio Pilato era discepola ed è bellissimo anche vedere come Gesù con queste piedonne pagane ma incamminate diciamo così verso la via della fede ci fa dei bellissimi discorsi utilizzando per esempio le categorie filosofiche ci parla di filosofie queste erano delle pagane dotte istruite non erano sempliciotte ebrei e Gesù interloquisce con loro stando un pochino diciamo noi con termine moderno perfettamente sul pezzo stando all'altezza di loro questo ci fa capire anche perché nella saga scrittura si legge che le labbra del sacerdote devono custodire la scienza e dalla sua bocca si ricerca l'istruzione perché egli è sacerdote dell'altissimo questo è il profeta Malachia potete andare a controllare se non ricordo mai il capitolo terzo o il secondo tanto non sono tanti il profeta Malachia un sacerdote un ministro di Dio deve essere deve essere una persona istruita dalla sua bocca si ricerca l'istruzione cioè se sta parlando con una persona che è analfabeta ignorante cioè lui deve essere una persona che è capace di farsi capire da tutti e di stare a livello e a contatto con tutti ma qualora gli capitasse di trovarsi in certi ambienti deve essere in grado di starci una delle cose che si è persa nel sacerdozio attuale in tantissime cose anche esteriori è questa dimensione noi non ci pensiamo voi sapete adesso ci stiamo un sacco di preti che purtroppo non sono in grado di spieccicare quattro parole di latino ma questa è una cosa inammissibile inammissibile non è possibile non è un problema di prestigio o di che tu vuoi fare lo splendido che sei colto che sei istruito non è possibile quindi la formazione evidentemente la formazione del sardote è eminentemente umanistico filosofica teologica ma ci deve stare ci deve i preti devono studiare e devono continuare a studiare anche dopo l'ordinazione non devono non è perché si fermano al devono studiare devono leggere devono avere un un sufficiente bagaglio culturale per poter essere in contatto con chi Gesù è in contatto con chiunque Gesù è in contatto con gli analfabeti e con i bambini come questo come questo beniamino con una tenerezza ed una come dire condiscendenza e una affabilità un essere alla mano cioè unico ma quando si trovare in contesti differenti oppure andando a vedere negli scritti di Maria Valtorta anche la la signorilità di Gesù sono sempre rimasto colpito Maria Valtorta descrive bene come per esempio Gesù partecipava ai banchetti come mangiava come stava a tavola sempre compito sempre morigerato proprio sempre signorile nei gesti vabbè digressioni originate da Susanna e da Giovanna comunque vabbè andiamo avanti dice Nico dice Nico quindi se è così andiamo io e il ragazzo faremo i nostri acquisti benedici maestro maestro e vieni presto tu madre resti dice Maria di Magdala si col figlio mio si separano con Gesù restano soltanto le tre Marie la madre sua cognata Maria Cleofe e Maria Salome ecco qua allora facciamo un altro posto stasera facciamo un pochino di cultura evangelica sua cognata Maria Cleofe Maria Cleofe la chiama cognata Maria era figlia unica numero uno Maria Santissime era cognata perché era non la sorella ma la moglie del fratello di San Giuseppe San Giuseppe non era figlio unico è Maria Cleofe detta anche Maria di Alfeo perché Alfeo era il fratello di San Giuseppe il quale era il padre di Giuda d'Alfeo chiamato così nei Vangeli che è anche detto anche Giuda d'Addeo uno dei dodici ovviamente autore della lettera neotestamentaria era il padre di Giacomo d'Alfeo o Giacomo il minore autore della lettera cattolica secondo San Giacomo e primo vescovo di Gerusalemme e anche degli altri due che sono menzionati nei Vangeli che sono Simone e Ioses oppure Giuseppe che non erano tra gli apostoli anzi erano ostili a Gesù per un certo periodo prima della morte di Gesù uno dei due si comincia ad ammorbidire e l'altro li sarebbe ammorbidito addirittura dopo la risurrezione e l'ascensione di Gesù quattro figli aveva il feo i famosi fratelli di Gesù che si chiamavano fratelli perché sono menzionati come fratelli perché in ebraico il termine ah che noi traduciamo con fratello però non designa il fratello alla greca quindi la del fos quindi il fratello di sangue il fratello germano lo chiamiamo noi ma il parente cioè il membro di quella che i romani chiamavano la famiglia agnatizia cioè che c'ha il capostipite l'avo comune e poi tutto quanto il ramo dei discendenti la prova di questo è che Abramo nel libro della Genesi anzi Lot no Abramo Abramo quando si separa da Lot dice guarda che dobbiamo separarci non siamo cioè ricordiamoci sempre che siamo fratelli però ma Abramo e Lot non erano fratelli perché Lot era il nipote di Abramo eccetera no ecco quindi questo perché invece Maria Salome quest'altra chi era Maria Salome Maria Salome era la mamma di Giacomo e Giovanni c'erano c'erano delle coppie di fratelli nel gruppo apostolico due l'abbiamo menzionati che sono Giuda e Giacomo e D'Alfeo poi c'erano quelli più famosi Pietro e Andrea tutti sanno che sono fratelli spero Pietro e Andrea proprio fratelli fratelli e fratelli germani e poi c'erano Giacomo e Giovanni di Zebedeo Zebedeo era il marito di Maria Salome Giacomo di Zebedeo detto il maggiore è il famoso Giacomo di Santiago di Compostela era uno dei tre prediletti di Gesù Pietro Giacomo e Giovanni quel Giacomo non era il cugino di Gesù era Giacomo di Zebedeo Giacomo il maggiore Giacomo il maggiore è colui che nel gruppo apostolico avrebbe per primo affrontato il martirio sotto erode agrippa decapitato il proto martire in assoluto il primo martire in assoluto tra le cristiane non è stato santo Stefano come tutti sappiamo ma il primo dei dodici ad essere martirizzato è stato Giacomo il maggiore o Giacomo di Zebedeo il fratello di San Giovanni mentre il fratello San Giovanni come sappiamo è l'unico apostolo che non è morto martire ed è arrivato ad età altamente avanzata quasi decrepita e in età molto molto avanzata ha scritto l'ultimo testo del Nuovo Testamento che è il libro dell'Apocalisse Maria Salome era la mamma di Giacomo di Zebedeo e di Giovanni il prediletto di Gesù sono cose ormai io me lo sono imparato a memoria perché l'ho letta tante volte l'opera quindi ormai sono tutto quanto il quadro completo quindi so bene un po' chi erano gli apostoli che tipo di personalità avevano eccetera è molto bello quindi la lettura di questo di questo di come dire questo ciclo di Catechesi spero che faccia venire la voglia a tutti di leggere l'opera integralmente perché ne pare veramente la pena perché non l'avessi mai fatto l'opera di Maria del Torta chiaramente l'opera sui Vangeli l'Evangelo come mi è stato rivelato da cui questo testo è stato tratto questo testo è un collage dei passaggi dell'Evangelo in cui Maria di Magdala compare con la sua personalità per ricostruirne appunto il profilo come cerchiamo di fare in questo ciclo di Catechesi chiudiamo qualche giorno dopo a Betania così si esprime Lazzaro con il maestro vedendo arrivare Marta la mia sorella cara anzi le mie sorelle ora sono tutti due come due tenere fanciulle ignare di ogni malizia Maria come questa e quando venne Maria da Gerico ieri l'altro proprio una fanciulla pareva con le trecce giù per la persona avendo venduto le sue forcine per i candari di un fanciullo ed essendo insufficienti le sottili forcini di ferro a sorreggere la sua capigliatura rise dicendomi nello scendere dal Carlo fratello mio ho conosciuto cos'è dover vendere per comprare e come sono difficili al povero anche le cose più semplici come tenere a posto i capelli con forcine di venti a una di dramma qui non capisco tanto che significa con forcine di venti a una di dramma comunque non sono pratico di queste cose un po' un po' femminile comunque me lo ricorderò per essere ancora più misericordiosa ai miseri in avvenire e Lazzaro conclude dicendo come l'hai cambiata signore quindi vedere Maria di Magdala che vende le proprie forcine per comprare un paio di sandali a un bambino povero e quindi era fatto anche difficoltà e quindi va in giro scapigliata perché le forcine di ferro a quanto pare non riuscivano a reggere quella massa di capelli che si portava dietro Lazzaro dice questa è un'altra persona potere grande di Gesù e della sua grazia bene amici possiamo chiudere ci aggiorniamo la prossima puntata che vi benedica e la Santa Vergine di Protegg grazie grazie